Incinta al settimo mese di gravidanza, è stata sorpresa a rubare all'interno di un appartamento di via Prosdocimi a Padova. La donna, 29enne, di origine montenegrina, è stata arrestata dai carabinieri intervenuti dopo che il segnale dell'allarme era arrivato alla centrale operativa. I militari, giunti sul posto, hanno sorpreso la giovane donna intenta a rovistare in casa. Con sé aveva alcuni grimaldelli utilizzati per forzare la porta d'ingresso dell'abitazione. Visto lo stato in cui si trovava, per la 29enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.